Capitolo IV Lui non era Mr. Wentworth, l'ex curato di Monkford, per quanto le apparenze potessero trarre in inganno, ma un certo capitano Frederick Wentworth, suo fratello, il quale, nominato comandante dopo la battaglia a largo di Santo Domingo e in attesa che gli venisse affidato un comando, era giunto nel Somerset Shire nell'estate del 1806 e non avendo più genitori aveva abitato per sei mesi a Monkford. Allora era un giovane molto attraente, dotato di grande intelligenza, spirito e viva sagaccia e Anne era una graziosissima fanciulla gentile, modesta e dotata di una notevole sensibilità. Anche solo una metà della somma delle attrattive sarebbe forse bastata da una parte e dall'altra, già che lui non aveva nulla da fare e lei nessuno da amare. Ma l'incontro di quelle qualità così straordinarie non poteva non far scatturire qualcosa. Giorno dopo giorno impararono a conoscersi e quando si furono conosciuti si innamorarono rapidamente e profondamente. Sarebbe difficile dire chi dei due vedesse nell'altro la perfezione più alta o chi fosse il più felice, lei nel ricevere le dichiarazioni e la proposta di lui o lui nel vederle accolte. Seguì un breve periodo di intensa felicità, ma fu breve. I problemi non tardarono a presentarsi. Sir Walter, quando gli venne chiesta la mano della figlia, senza rifiutare apertamente il suo consenso o dire che mai l'avrebbe dato, espresse la sua contrarietà con un grande stupore, una grande freddezza, un grande silenzio, dichiarando infine a chiare lettere che non avrebbe fatto nulla per sua figlia. Pensava che fosse un matrimonio troppo degradante e Lady Russell, seppure con orgoglio più moderato e giustificabile, lo riteneva davvero inopportuno. Ann Elliot, coi diritti che le derivavano dalla sua condizione sociale e che la sua bellezza e intelligenza le davano, avrebbe gettato via la sua esistenza a 19 anni. Fidanzarsi a 19 anni con un giovanotto che non aveva altro su cui contare se non se stesso, le cui speranze di divenire ricco erano legate a una professione assai incerta che non aveva parenti in grado di assicurare gli avanzamenti nella sua professione. Sarebbe stato invero come buttarsi via e il solo pensiero la addolorava. Ann Elliot, così giovane, conosciuta da così pochi, lasciarsi portare via da un forestiero che non aveva né parentelli onorabili, né un patrimonio, anzi cadere per causa sua in una condizione di angosciosa dipendenza che avrebbe ucciso la sua giovinezza. Non doveva accadere. Se il discreto interessamento di un'amica, se le ragioni di chi provava per anno un amore quasi materno e su di lei poteva quasi rivendicare i diritti di una madre, lo avessero impedito. Il capitano Wentworth non aveva un patrimonio. Era stato abbastanza fortunato nella sua professione ma avendo speso con poca oculatezza ciò che aveva avuto con molta facilità, non gli era rimasto nulla. Ma era sicuro che presto sarebbe diventato ricco. Era pieno di vitalità e ardore. Sapeva che presto gli sarebbe stato affidato il comando di una nave e che presto avrebbe raggiunto una condizione che gli avrebbe consentito di arrivare dove desiderava. Era stato sempre fortunato e sapeva che lo sarebbe stato anche in avvenire. Una tale fiducia in se stesso, formidabile nel suo impeto e ammaliante per la sagacia con la quale veniva espressa, era abbastata ad Anne. Maledi Russell la considerava diversamente. Il suo temperamento sanguigno e il suo spirito intrepido avevano su di lei un effetto diverso. Vi scorgeva un aggravante del male, aggiungeva un'aura di pericolosità al suo carattere. Era brillante, era ostinato. A Lady Russell piaceva poco l'ingegno e provava orrore per tutto ciò che poteva assomigliare all'imprudenza. Deprecava il fidanzamento sotto ogni aspetto. Una tale opposizione, prodotta da questi sentimenti, era più di quanto Anne fosse capace di affrontare. Giovane e dolce com'era, avrebbe forse potuto porre resistenza alla contraria volontà del padre, mai attenuata da una parola gentile né da uno sguardo della sorella, Maledi Russell, che aveva sempre amato e sulla quale aveva sempre fatto assegnamento, non poteva, con le sue opinioni così equilibrate e i suoi modi delicati, continuare a consigliarla in vano. Fu persuasa a ritenere un errore quel fidanzamento, un'imprudenza, una cosa sconveniente di incerta riuscita e che non meritava. Ma non era stata solo un'egoistica considerazione a persuaderla a porvi fine. Se ella non avesse ritenuto di fare il bene di lui, ancora più del proprio, difficilmente lo avrebbe lasciato. La convinzione di essere stata prudente, di aver agito sacrificandosi nell'interesse di lui, era la sua più grande consolazione, pur nel dolore della separazione, una separazione definitiva, ed aveva bisogno di consolazione perché doveva sopportare il dolore delle opinioni di lui, totalmente incredulo e inflessibile, e convinto di essere stato umiliato da una rinuncia così involontaria. Di conseguenza egli aveva lasciato il paese. Pochi mesi avevano visto l'inizio e la fine della loro relazione, ma pochi mesi non bastarono a porre fine al dolore di Anne. Il suo amore e i suoi rimpianti per molto tempo avevano rattristato tutte le gioie della sua gioventù e una precoce perdita della freschezza del suo aspetto e del suo entusiasmo era stato il loro effetto più duraturo. Più di sette anni erano trascorsi da che questa dolorosa piccola storia era finita, il tempo aveva attenuato molte cose, forse quasi tutto quel suo particolare attaccamento per lui, ma Anne aveva fatto troppo assegnamento sull'effetto del tempo e non aveva cercato sollievo recandosi in altri luoghi, tranne che per una visita a Bath subito dopo la rottura. In qualche fatto singolare o nella distrazione che può portare un allargamento delle sue conoscenze. A Kellynch Hall non era mai giunto nessuno che potesse sostenere il confronto con Frederick Wentworth così come era rimasto nella sua memoria. Nessun'altra infatuazione, unica cura naturalmente valida e sufficiente per una donna della sua età, nessuna relazione che potesse legarla a una delle famiglie dei dintorni, era parsa adeguata alla sua mentalità aperta e ai suoi gusti delicati. A 22 anni aveva ricevuto la proposta di cambiare il proprio nome da un giovane che non molto tempo dopo aveva trovato un animo più accondiscendente nella sorella minore. Lady Russell aveva criticato il suo rifiuto poiché Charles Musgrove era il primo genito di un uomo le cui notevoli proprietà terriere e la generale influenza erano seconde nella zona solo a quelle di Sir Walter e che inoltre aveva un buon carattere e un aspetto piacevole. E nonostante Lady Russell avesse desiderato qualcosa di meglio quando Anna aveva 19 anni, ora che ne aveva 22 si sarebbe rallegrata di vederla rispettabilmente lontana dalle parzialità e ingiustizie della casa paterna e definitivamente sistemata nelle sue vicinanze. Ma in questo caso Anna aveva rifiutato ogni consiglio e sebbene Lady Russell, come sempre soddisfatta del proprio giudizio, non si fosse pentita di come erano andate le cose nel passato, prese a temere con quell'ansia che si avvicina alla disperazione che Anne fosse tentata da qualche uomo ricco di mezzi e di ingegno ad entrare in una condizione per la quale, considerando la sua affettuosità e le sue abitudini domestiche, Lady Russell la riteneva decisamente portata. Ignoravano le reciproche opinioni su quel fondamentale episodio della condotta di Anne, né sapevano se esse fossero cambiate o rimaste immutate, giacché all'argomento mai venne fatto il minimo accenno. Ma Anne, a 27 anni, vedeva le cose in maniera assai diversa da come le avevano insegnato quando ne aveva 19. Non biasimava Lady Russell, né se stessa per averne seguito i suggerimenti, ma era certa che se un'altra ragazza in simili circostanze avesse chiesto consiglio a Lady Russell, non ne avrebbe certamente ricevuto uno che provocasse una sofferenza così immediata, un così incerto bene futuro. Era convinta, pur nella svantaggiosa situazione creata dalla disapprovazione dei familiari e dalle ansie che la professione di lui avrebbe suscitato, fra timori, indugi e disillusioni, che sarebbe stata più felice se non avesse rotto il fidanzamento. Questo sarebbe accaduto, ne era assolutamente persuasa, anche se loro avessero dovuto accettare la consueta porzione, anche più della consueta porzione, di quelle ansie e preoccupazioni, e ciò a prescindere dagli esiti della loro situazione che, come accadde, avrebbe donato loro prosperità prima di quanto fosse stato ragionevole calcolare. Le ottimistiche speranze di lui, la sua fiducia, erano giustificate, la sua intelligenza, il suo ardore pareva avessero previsto e avessero guidato il suo successo. Poco dopo la rottura della relazione, egli aveva avuto un incarico e tutto ciò che gli aveva pronosticato si era avverato, si era distinto e aveva ottenuto un avanzamento di grado e ora, dopo la cattura di altre navi, aveva accantonato un bel patrimonio. Anne aveva solo i bollettini della marina e i giornali da cui attingere informazioni, ma non dubitava che lui fosse ricco e, non avendo dimenticato la sua costanza, non aveva ragione di ritenere che si fosse sposato. Come avrebbe potuto essere eloquente Anne Elliot, o almeno come sarebbe stata eloquente nel perorare la causa di quell'ardente affetto di gioventù e della serena fiducia nel futuro, contro quella angosciosissima cautela che pare insultare ogni sforzo e di fidare della provvidenza. Era stata costretta ad essere prudente da giovinetta, ma crescendo aveva imparato a essere romantica, naturale conseguenza di un inizio innaturale. Con tutte queste circostanze, ricordi e sensazioni, non poté non provare di nuovo la sofferenza di un tempo quando apprese che probabilmente la sorella del capitano Wentworth sarebbe venuta a vivere a Kellynch e furono necessarie molte passeggiate e molti sospiri per calmare l'agitazione che l'idea le provocava. Diceva spesso a se stessa che era pazzia la sua, prima di riuscire a controllare sufficientemente i suoi nervi per poter sopportare le continue discussioni sui croft e i loro affari. Tuttavia, in ciò era aiutata dalla perfetta indifferenza e dall'apparente inconsapevolezza delle tre persone che conoscevano il suo segreto e che parevano aver quasi dimenticato l'episodio. A questo proposito, ammetteva la superiorità dei motivi di Lady Russell se paragonati a quelli del padre e della sorella. Apprezzava la sua calma, ma quella smemoratezza che tutti e tre dimostravano era importantissima, qualunque fosse il sentimento che la dettasse. Quanto all'eventualità che il capitano Croft affittasse davvero Kellynch Hall, Anne si rallegrava nuovamente al pensiero che tra tutte le persone che conoscevano il suo segreto era noto solo a quelle tre, le quali, n'era certa, non avrebbe detto una sola sillaba e che fra i parenti di lui solo il fratello con il quale aveva abitato poteva aver avuto qualche informazione sul loro breve fidanzamento. Il fratello aveva da tempo lasciato il paese ed essendo un uomo giudizioso, nonché a quel tempo ancora scapolo, Anne confidava che non ne avesse parlato a nessuno. La sorella, Mrs. Croft, era stata lontana dall'Inghilterra avendo accompagnato il marito in una base straniera e la sorella di lei, Mary, a quel tempo era ancora a scuola e, grazie all'orgoglio di alcuni e alla delicatezza di altri, non aveva mai saputo nulla dell'accaduto. Con questi presupposti, Anne sperava che l'incontro con i Croft, che per la presenza Kellynch di Lady Russell e per il fatto che Mary abitava a sole tre miglia di distanza sarebbe stato inevitabile, non le avrebbe causato imbarazzi di sorta. Capitolo quinto. La mattina in cui a Kellynch Hall ebbe luogo la visita dell'ammiraglio Croft e signora, Anne ritenne che fosse cosa naturalissima fare la sua quasi quotidiana passeggiata da Lady Russell e star lontano da casa finché non fosse tutto finito, trovando poi altrettanto naturale provare in crescimento per aver perduto l'occasione di vederli. Quest'incontro tra le due parti si rivelò davvero soddisfacente e decise immediatamente la conclusione dell'affare. Le signore erano già disposte a trovare un accordo e per questo motivo ciascuna notò nell'altra le squisite maniere. Quanto agli uomini da parte dell'ammiraglio vi fu una dimostrazione di tale cordialità e aperta fiducia che non potendono influenzare favorevolmente Sir Walter, il quale si era sentito lusingato e indotto a un comportamento ineccepibile dalle assicurazioni di Mrs. Shefford, secondo cui l'ammiraglio lo stimava un modello esemplare di gentiluomo. La casa, il terreno, i mobili furono approvati, furono approvati Croft, le condizioni, i termini di scadenza, ogni cosa e ogni persona era perfetta e gli impiegati di Mr. Shefford vennero messi all'opera senza che si dovesse apporre alcuna modifica preliminare a tutto ciò che è stabilito in questo contratto. Sir Walter, senza esitazione, dichiarò che l'ammiraglio era il marinaio più distinto che avesse mai incontrato e giunse perfino ad affermare che se solo il suo cameriere personale avesse potuto pettinarlo non avrebbe provato vergogna a mostrarsi ovunque in sua compagnia. E l'ammiraglio, con simpatia e calore, osservò rivolgendosi alla moglie mentre in carrozza attraversavano il parco. Sapevo, mia cara, che ci saremmo trovati presto d'accordo nonostante quello che abbiamo saputo a Tonton. Il baronetto non sarà una persona eccezionale ma a me sembra innocuo. Complimenti reciproci che si sarebbero potuti considerare più o meno equivalenti. I Croft avrebbero preso possesso della casa il giorno di San Michele e siccome Sir Walter aveva proposto di trasferirsi a Bath nel corso del mese precedente non c'era tempo da perdere in preparativi. Lady Russell, convinta che non sarebbe stato concesso a Dan di essere di alcuna utilità o di avere una qualche influenza nella scelta della casa che avrebbero dovuto trovare, non gradiva che fosse allontanata così frettolosamente e desiderava che potesse rimanere ancora per un po' fino a quando non l'avrebbe lei stessa accompagnata a Bath dopo Natale. Ma a motivo di alcuni impegni che l'avrebbero costretta a stare lontana da Kellynce per diverse settimane, non poteva offrire l'ospitalità per tutto il periodo che avrebbe desiderato. Anne, benché temesse il probabile calore di settembre nel bianco abbacinante riverbero di Bath e provando rincrescimento per la forzata rinuncia alla dolce e triste influenza dei mesi autunnali in campagna, non pensò, tutto considerato, di voler rimanere. Sarebbe stato assai giusto e saggio e quindi, causa di minor sofferenza, andarsene con gli altri. Accadde qualcosa, tuttavia, che le impose un altro dovere. Sua sorella Mary, che spesso stava poco bene e che sempre ingigantiva i suoi malanni e sempre reclamava la presenza di Anne quando qualcosa andava storto, era indisposta e prevedendo che nel corso dell'autunno non sarebbe stata bene neppure per un giorno, la supplicò, o piuttosto le chiese, giacché di una supplica proprio non si trattava, di andare ad Upper Cross Cottage a fare le compagnia finché ne avessi avuto bisogno, invece di andare a Bath. Non posso fare a meno di Anne, dichiarò Mary, a che Elizabeth rispose allora sono sicura che Anne farà bene a restare qui perché nessuno avrà bisogno di lei a Bath. Sapersi considerate necessarie sia pure in uno stile poco rispettoso delle forme è certo più soddisfacente che vedersi respingere come dei buoni a nulla e Anne lieta di essere di qualche utilità, lieta di quella soluzione che le imponeva un dovere e certamente non dispiaciuta di godere la vista dei paesaggi della campagna, la sua amata campagna, decise subito di restare. L'invito di Mary risorse tutte le difficoltà di Lady Russell e conseguentemente fu deciso che Anne non dovesse raggiungere Bath finché Lady Russell non avesse potuto accompagnarvela e che nel frattempo avrebbe suddiviso le sue giornate tra Upper Cross Cottage e Kellynch Lodge. Fin qui tutto era perfetto, ma Lady Russell rimase quasi turbata quando improvvisamente venne a conoscenza di un pericoloso dettaglio del piano elaborato a Kellynch Hall e cioè che a Mrs. Clay era stato chiesto di andare a Bath con Sir Walter ed Elizabeth in qualità di importante e indispensabile assistente dell'amica per aiutarla in tutte le faccende che l'attendevano. A Lady Russell dispiacque enormemente che fosse stato necessario agire in tal senso. Rimase meravigliata, ne fu addolorata e preoccupata. L'affronto che veniva fatto ad Anne, già che Mrs. Clay era considerata utile mentre Anne invece non lo era affatto, aggravò dolorosamente il suo dispiacere. Anne si era abituata a questo genere di affronti, ma comprese al pari di Lady Russell l'imprudenza di tale intendimento. Avendo spesso osservato il padre in silenzio e conoscendo bene anche troppo, tanto che spesso si augurava di conoscerlo meno, il suo carattere, ella presentiva che dall'intimità di quei rapporti potevano derivare alla sua famiglia serie conseguenze. Non immaginava che anche il padre avesse al momento simili progetti. Mrs. Clay aveva le lentigini, un dente che sporgeva in fuori e un'imperfezione a un polso particolare sui quali il padre in sua assenza aveva sempre da fare critiche severe. Ma era giovane, certamente di bellissima presenza, e possedeva, oltre a una naturale vivacità e a modi sempre piacevoli, attrattive infinitamente più pericolose di quelle strettamente legate all'aspetto fisico. Anne temeva così tanto la loro pericolosità che non poteva trattenersi dal mettere sulla viso la sorella. Aveva poche speranze di successo, ma Elizabeth, che nel caso una simile sventura fosse accaduta, sarebbe stata da compiangere molto più di lei, non avrebbe mai, pensava, avuto motivo di muoverle il rimprovero di non averla avvertita. Le parlò e riuscì solo a offenderla. Elizabeth non riusciva a concepire come avesse potuto avere un sospetto così assurdo e rispose indignata che i due interessati conoscevano perfettamente la loro situazione. Mrs. Clay, disse rispondendole in maniera accalorata, non dimentica mai chi è e poiché io conosco i suoi sentimenti meglio di quanto li puoi conoscere tu, posso assicurarti che in tema di matrimonio essi sono particolarmente esemplari e che disapprova più di quanto in genere faccia la maggior parte della gente. Le unioni tra persone le cui condizioni sociali e il rango sono diverse. Quanto a mio padre non avrei pensato davvero che rimasto solo così a lungo per amor nostro dovesse essere sospettato proprio ora. Se Mrs. Clay fosse una donna molto bella, te lo assicuro, la mia familiarità con lei sarebbe un errore. Niente, ne sono certa, potrebbe indurre mio padre a fare un matrimonio inferiore al suo rango. La cosa potrebbe tuttavia renderlo infelice. Ma la povera Mrs. Clay, pur con tutti i suoi meriti, non la si può certo considerare nemmeno minimamente piacente. Penso proprio che la povera Mrs. Clay possa star qui con noi in tutta tranquillità. Si potrebbe pensare che tu non abbia mai udito nostro padre parlare dei suoi difetti, anche se so che devi averlo sentito almeno cinquanta volte. Quel dente, oh, e quelle lentigini. Le lentigini non mi disgustano quanto invece disgustano lui. Ho visto volti che non erano sfigurati da qualche lentigine, ma lui proprio non le tollera. Devi averlo sentito alludere alle lentigini di Mrs. Clay. Non esiste un difetto fisico, rispose Ann, che a poco a poco non riesca farsi perdonare da modi piacevoli e garbati. Io la penso molto diversamente, rispose Elisabeth con piglio deciso. I modi piacevoli e garbati possono sottolineare dei tratti squisiti, ma non riusciranno mai ad alterarne di ordinari. Tuttavia, siccome per me la posta in gioco su questo punto è molto superiore a quella di chiunque altro, ritengo assai poco utile che tu mi dia consigli. Ann non disse niente. Era felice che la conversazione fosse finita e non disperava di aver agito per il meglio. Elisabeth, nonostante fosse risentita per quel sospetto, avrebbe forse aperto gli occhi. L'ultimo compito della carrozza fu quello di accompagnare Sir Walter, Miss Elliot e Mrs. Clay a Bath. Erano tutti di ottimo umore quando partirono. Sir Walter dispensò con discendenti ceni del capo a tutti gli afflitti, affittuari e contadini ai quali era stato consigliato di mettersi in mostra e nello stesso momento Ann, con un senso di desolata tranquillità, diresse i suoi passi verso Kellynch Lodge, dove avrebbe dovuto trascorrere la prima settimana. La sua amica non era in condizioni di spirito migliori delle sue. Lady Russell soffriva molto per questa separazione dalla famiglia. Teneva la loro rispettabilità come alla sua e il contatto quotidiano con loro era divenuto per lei una preziosa consuetudine. Era doloroso fare rarello sguardo sulle loro terre abbandonate. E' ancora più doloroso pensare in quali mani sarebbero finite. Così, per sottrarsi alla solitudine e alla melanconia di quel viaggio, ora così diverso, e per essere lontana il giorno dell'arrivo dell'ammiraglio di Mrs. Croft, decise di partire il giorno che avrebbe dovuto separarsi da Ann. Di conseguenza, la loro partenza avvenne contemporaneamente. Ann fu fatta scendere a Upper Cross Cottage durante la prima tappa del viaggio di Lady Russell. Upper Cross era un villaggio abbastanza piccolo che fino a qualche anno prima aveva conservato tutte le caratteristiche del vecchio stile inglese e aveva solo due case che in apparenza erano superiori a quelle dei piccoli proprietari dei braccianti. La dimora dello square, con le sue alte mura e i grandi cancelli, gli alberi alti, solida e non rimodernata, e la canonica piccina raccolta circondata dal suo lindo giardino con una vite e i rami di un pero che incorniciavano le finestre a due battenti. Ma dopo il matrimonio del giovane squire, il villaggio si era arricchito di una fattoria trasformata in cottage che sarebbe diventata la sua casa di campagna. Così, Upper Cross Cottage, con la sua veranda, le sue porte, finestre e altri abbellimenti, attirava spesso l'attenzione del viaggiatore, quasi quanto l'aspetto più grandioso e importante della casa grande, circa un quarto di milio più lontano. Qui Anne aveva soggiornato di frequente, conosceva le abitudini di Upper Cross non meno di quanto conoscesse quelle di Kellynch. Le due famiglie si incontravano spessissimo, avvezze come erano a entrare e uscire da una casa all'altra tutte le ore, sicché fui piuttosto sorpresa di trovare Mary tutta sola. Ma essendo tutta sola, il suo essere indisposta e sentirsi depressa erano quasi una conseguenza inevitabile. Benché fosse più intelligente della sorella maggiore, Mary non possedeva la capacità di comprensione e lo spirito di Anne. Quando stava bene, se era felice, si sentiva al centro delle attenzioni, era di umore eccellente, spiritosa, ma la minima indisposizione le causava una profonda depressione. Non riusciva a fronteggiare la solitudine e, avendo ereditato una buona razione della presunzione degli Elliot, era assai portata ad aggiungere a tutte le sue pene quella di considerarsi trascurata o maltrattata. era meno bella delle due sorelle e anche nel fiore degli anni era stata considerata tutta al più una bella fanciulla. Adesso era distesa sul sofà sbiadito del piccolo ed elegante saluttino, ormai logoro per via delle quattro estati trascorse e dei giochi dei due bambini. Quando Anna apparve, la salutò con un «finalmente sei arrivata!» Cominciavo a pensare che non ti avrei mai più rivista. Sto così male che riesco a malapena a parlare. Non ho visto Anima Viva per tutta la mattina. «Mi spiace che tu non stia bene», rispose Ann. Giovedì scorso mi avevi fatto sapere che tutto andava per il meglio. «Sì, ho fatto ciò che ho potuto, lo faccio sempre. In realtà non stavo bene e non sono mai stata male come stamattina. Non riesco proprio a stare da sola, davvero. Pensa se mi sentissi malissimo all'improvviso e non riuscissi a suonare il campanello. E così Lady Russell non è nemmeno scesa dalla carrozza. Non penso che sia stata tre volte in questa casa quest'estate». Ann rispose in maniera appropriata e le chiese di suo marito. «Oh, Charles, è a caccia. Non lo vedo dalle sette di stamane. Ha voluto andare, anche se gli ho detto quanto mi sentivo male. Ha detto che non sarebbe stato fuori a lungo, ma non è ancora rientrato e adesso è quasi l'una. Ti assicuro che non ho visto anima viva per tutta la mattina». «Non c'erano i piccini con te?» «Sì, fino a che sono riuscita a sopportare il loro fracasso, ma sono così discoli che mi fanno più male che bene. Il piccolo Charles non mi dà mai ascolto e Walter sta diventando come lui». «Bene, ti riprenderai presto», rispose Ann con tono incoraggiante. «Sai che ti guarisco sempre quando vengo qui. Come stanno i tuoi vicini della casa grande?» «Oh, non ti so dire niente. Non ho visto nessuno di loro stamane. Forché Mr. Musgrove, che si è trattenuto un momento passando a cavallo e mi ha parlato attraverso la finestra e nonostante gli abbia detto quanto stessi male, nessuno di loro si è fatto vivo. Immagino che la cosa non piacesse alle sorelle Musgrove. Non si prendono mai il disturbo di deviare dai loro percorsi consueti. Forse le vedrai prima di sera e ancora presto». «Non sento mai la loro mancanza, te lo assicuro. Parlano e ridono troppo per i miei gusti. Oh, Ann, sto così male. Sei stata davvero cattiva a non venire giovedì scorso». «Mia cara Mary, ricordati che mi hai mandato notizie confortanti sul tuo conto. Mi hai scritto con un tono allegro dicendo che stavi benissimo e che non avevi urgente bisogno della mia presenza qui e che stando così le cose puoi certo capire quanto desiderassi restare con Lady Russell fino all'ultimo. Poi, a parte i miei sentimenti nei suoi confronti, sono stata così indaffarata e ho avuto così tante cose da fare che sarebbe stato praticamente impossibile lasciare prima Kellynch». «Povera me, cosa mai puoi aver avuto da fare tu?» «Beh, un sacco di cose, te lo assicuro, più di quante ne riesca a ricordare in questo momento. Ma te ne posso elencare alcune. Ho fatto un duplicato del catalogo dei libri e dei quadri del babbo. Sono stata diverse volte in giardino come Kenzie per tentare di capire e far capire a lui quali delle piante di Elizabeth sono pelle di Russell. Ho dovuto sistemare tutte le mie cosette, libri e spartiti da dividere, rifare tutti i bauli perché non avevo capito in tempo cosa era stato deciso a proposito dei mezzi di trasporto. E un'altra cosa ho dovuto fare, Mary, una cosa assai più difficile. Andare in quasi tutte le case della parrocchia per una specie di comiato. Mi è stato detto che lo desideravano. Tutte queste cose mi hanno preso un sacco di tempo». «Oh, bene!» E dopo un momento di pausa. «Ma non mi hai ancora chiesto nulla del nostro pranzo di ieri dai pool?» «Ah, allora ci sei andata?» Non ti ho fatto domande perché pensavo che fossi stata costretta a declinare l'invito. «Oh, sì, ci sono andata. Ieri mi sentivo molto bene. Non ho avuto niente fino a stamane, davvero. Sarebbe stato strano non vi avessi preso parte anch'io». «Beh, sono contenta che ti sentissi abbastanza bene. Spero ti sia divertita il ricevimento». «No, nulla di particolare. Si sa sempre in anticipo come sarà il pranzo e chi vi parteciperà. E poi è un così grosso incomodo non avere una carrozza propria. Mi ci hanno portata mister e missis Musgrove. E stavamo così stretti. Sono tutti e due talmente robusti, occupano così tanto spazio e mister Musgrove si siede sempre davanti. Così ero sul sedile posteriore, stretta fra Henrietta e Luisa. Penso proprio che il mio malessere di oggi dipenda da questo motivo. Con un po' di perseveranza, nella pazienza e un po' di forzata allegria, Anne riuscì quasi a guarire Mary. Poco dopo poteva già star seduta sul sofà e le parve che per l'ora di pranzo sarebbe stata in grado di alzarsi. Poi, dimenticandosi di pensare al suo malessere, si spostò dall'altra parte della stanza per sistemare un mazzolino di fiori. Poi mangiò la sua carne fredda e infine si sentì abbastanza bene da proporre una breve passeggiata. «Dove andiamo?» disse quando furono pronte. «Suppongo che tu non vogli andare a far visita alla casa grande prima che loro siano venuti a salutarti qui da me». «Ma non avrei proprio nulla da obiettare», rispose Anne. «Non mi passerebbe mai per la testa di fare delle cerimonie con delle persone che conosco così bene come Mrs. Musgrove e le sue figlie. «Oh, ma dovrebbero venire a farti visita prima possibile. Dovrebbero sapere cosa ti si è dovuto in qualità di mia sorella. Tuttavia, possiamo pure andare noi da loro, starli un poco e poi goderci la nostra passeggiata». Anne aveva sempre pensato che fosse assai imprudente intrattenere rapporti di quel genere, ma non faceva più alcun tentativo per limitarli, poiché era convinta che nonostante da ambo le parti vi fossero continui motivi di frizione. Le due famiglie non potevano farne a meno. Di conseguenza andarono alla casa grande e sedettero per una mezz'ora nell'antiquato salottino quadrato con un piccolo tappeto sul pavimento lucido, al quale le due sorelle andavano pian piano conferendo un'aria in vero adatta di lieta confusione con un grande pianoforte e un'arpa con fioriere e tavolini piazzati in ogni angolo della stanza. Oh, se gli originali dei ritratti appesi a pannelli delle pareti, i gentiluomini in velluto marrone e le dame in satena azzurro avessero visto ciò che stava succedendo. Se si fossero accorti che lo scompiglio aveva preso il posto dell'ordine e della semplicità, i ritratti parevano fissare la scena allibiti. I Musgrove, al pari delle loro case, erano in fase di trasformazione, forse di miglioramento. Il padre e la madre appartenevano al tipo inglese vecchio stile e i giovani a quello nuovo. Mr e Mrs Musgrove erano bravissime persone, cordiali, ospitali, non molto istruite e per niente eleganti. I loro figli avevano mentalità in maniere più moderne. La famiglia era numerosa, ma gli unici due adulti, fatta eccezione per Charles, erano Henrietta e Luisa, due ragazze di 19 e 20 anni che erano state educate a una scuola di Exeter e da lì avevano portato il consueto bagaglio di virtuose qualità e che adesso vivevano come migliaia di altre giovinette per essere alla moda felici e allegre. I loro vestiti erano sempre perfetti, i loro volti erano piuttosto graziosi, il loro umore era eccellente, le loro maniere disinvolte e piacevoli. A casa godevano di una certa considerazione fuori della simpatia di tutti. Anne le guardava sempre come se fossero le creature più felici che conoscesse. Tuttavia, possedendo come tutti noi quel confortevole senso di superiorità che ci impedisce di desiderare che sia possibile scambiare la nostra con la personalità di qualcun altro, non avrebbe sacrificato la sua maggiore eleganza e cultura per tutti i loro divertimenti e lei invidiava unicamente la loro intesa e il loro mutuo affiatamento apparentemente perfetto, quell'affetto reciproco e allegro del quale lei aveva goduto così poco nel rapporto con le sorelle. Furono ricevute con grande cordialità, pareva che tra i componenti la famiglia della casa grande tutto procedesse a gonfie vele e Anne sapeva molto bene che in genere su di loro non c'era mai nulla da dire. Chiacchierarono per mezz'ora, abbastanza piacevolmente, e alla fine Anne non fu affatto sorpresa che le due sorelle Musgrove si unissero a loro per la passeggiata su particolare invito di Mary. Grazie a tutti.